Siamo quasi alla Vigilia di Pentecoste, la Festa dello Spirito Santo, e proprio oggi vogliamo farvi un annunzio a nome del Santo Padre che il prossimo ottobre tutta la Chiesa inizierà un cammino sinodale che porterà al Sinodo dei Vescovi che sarà celebrato nel ottobre del 23, con il tema Chiesa Sinodale, Participazione, Comunione e Missione. La Sinodale, Caminar Juntos, è il reto e la esperanza della Iglesia in questo III milenio. È un modo di essere ecclesial e una profecia per il mondo di oggi. Tutto il popolo di Dio ci mettere a la escucha, tutti a la escucha del Spirito Santo. Questo dinamismo di comunione farà possibile una maggior coerencia nella nostra vita cristiana e ci impulserà a testimoniare con entusiasmo l'Evangelio di Gesù nel medio del mondo Un'Eglise sinodale è un'Eglise dell'Ecoute l'eglise dell'Eglise del prossimo sinodo è di startare con una vasta consultazione con una prima fase diocésane che finirà con una riunione pré-synodale una seconda fase di conferenze episcopali che sintetiserà tutti i apports della consultazione a la base e una fase continentale che producirà un document final che alimenterà in fine l'Eglise sinodo dell'Eglise d'octobre 2023 grazie a tutti